Per tradizione ci accompagnano Antonella Allora, le prime targhe di ringraziamento Per ricordare un po' Fiore Come dicevo stamattina Siamo andati a fargli visita Al cimitero qui a Guglionesi Fiore senz'altro ci protegge dalla sua Non i motociclisti Lui amava molto la moto Ma amava stare insieme Per chi non lo conosce Aveva un carattere vulgar Ma era una persona disponibile Sempre pronta ad aiutare chiunque ne aveva bisogno Gli chiedevi un favore Fiore col camioncino Passiamo subito Era sempre disponibile Questa era Fiore Molti di voi lo conoscono Perché lui con la moto ha girato tanto È stato in molti motoraduni Ne ha organizzate anche lui tanti Quindi Ma per chi non lo conosce E oggi abbiamo chiesto a Fiore di proteggerci Noi che andiamo in moto Lui senz'altro dall'assù sta girando in moto Anche perché Il paradiso è una strada piena di curve La benzina non si paga Quindi lui si diverte senz'altro Come abbiamo scritto su un bigliettino Bene Grazie a tutti per essere intervenuti E salutiamo tutti voi Speriamo di rivederci anche l'anno prossimo